Il sole e luna è un evento di enorme importanza. Perché di enorme importanza? Perché dimostra innanzitutto che partendo da zero, con intelligenza, con buona volontà e con lavoro, perché in queste cose si fanno lavorando, si raggiungono risultati non indifferenti. Il sole e luna è diventato un evento importante nel circuito internazionale dei film. Perché poi è importante? Perché io sono convinto, è una convinzione del tutto personale, che siano questi eventi, questi sforzi fatti con intelligenza e buona volontà, che potranno forse, forse, un giorno raddrizzare questo paese, al quale è stata sottratta dire la cultura sembra semplicistico. Facciamo un esempio piccolo, piccolo come quanto sta succedendo qui. È un festival che coinvolge alcune centinaia di persone. Dato che coinvolge un centinaio di persone non è un evento mondiale, però serve a dare ai palermitani e ai visitatori come me un grande sentimento importante, cioè l'orgoglio di essere protagonisti della cultura di una grande città, di una città che è stata una capitale importante, una città che in epoche passate era una delle città più importanti d'Europa, ridare l'orgoglio di fare cose importanti, cose che attraggono la cultura internazionale e che restituiscono parte di questa cultura al luogo dove si verificano. Ecco, io, sarà banale, ma io sono convinto che il grido dovrebbe essere uno, dieci, cento, mille sole l'una. In vari campi, non necessariamente tutti nei film, altrimenti sarebbe sicuramente affollato, però eventi costruiti col coraggio, la buona volontà, l'intelligenza, la voglia di fare, la voglia di anche spaccarsi la schiena magari, ma spaccarsi la schiena in mezzo a tutti questi ragazzi che si spaccano la schiena nel periodo che vedo io, forse il resto dell'anno stanno a grattarsi la pancia, però quando c'è questo festival si danno da fare, tutti si danno da fare per un uno scopo importante. Cosa deve fare solo l'una? Beh, sole l'una, a mio parere, ha dato un grande esempio, ha aperto una strada che dovrebbe essere seguita da altri. In quanto festival, ecco, sole l'una adesso, a mio parere, è davanti veramente a un bivio, e cioè si è oramai affermato come evento volontaristico. Dovrebbe passare a una fase, non vorrei essere frainteso, industriale, dove dire industriale significa un'organizzazione, una scala, un movimento purtroppo anche di soldi, a un altro livello. E sarebbe un peccato se restasse a un livello volontaristico, perché, intendiamoci bene, viva il volontarismo, sono ben contento che si continui a un livello volontaristico, però forse è il caso di salire, di salire di livello. Speriamo, io posso solo brindare a questa possibilità.